E' la madre di tutte le partite. Domani alle 15 al Presti andrà in scena Gela San Cataldese, seconda contro prima. Le due squadre sono divise da tre punti. Si tratta dell'operazione a gancio per la truppa allenata da Totò Brucculeri. Vincere ed approdare in testa la gradutoria del girone A del campionato di eccellenza e poi giocarsi il tutto per tutto per il salto di categoria in Serie D. Ecco perché la gara di domani è una sfida al cui risultato sarà determinante per chi lotta inseguendo un sogno. In settimana Nassi e compagni hanno lavorato intensamente per prepararsi al meglio alla partita di domani. C'è in gioco una fetta di campionato. La San Cataldese è un osso duro e la classifica lo dimostra ampiamente. In testa con 38 punti, frutto di 11 successi, 5 paraggi e 2 sconfitte. In seni hanno la miglior difesa del torneo con soli 9 gol subiti. Di contro il Gela possiede uno dei migliori attacchi con 31 gol realizzati, 4 in meno rispetto al Dattino Noir, terzo in gradutoria. I biancazzurri finora hanno conseguito 10 vittorie pareggiando in 5 occasioni e perdendo 3 volte. Per la gara di domani l'allenatore Brucculeri potrà contare sull'intero organico a disposizione. Saranno della partita a tre piedi Runze e Campanaro. Nelle fila della San Cataldese invece mancheranno per squalifica Di Marco, Bruno e Montalbano. Dirigerà la gara Emanuele Bragaccini di Macerata, previsto il pienone allo stadio. I tifosi biancazzurri in questi giorni hanno tappezzato la città con numerosi striscioni. Avanti Gela, lotta col cuore, tutti allo stadio, vinci per noi, forza ragazzi. Gli striscioni sono stati collocati in diversi punti della città. Da San Cataldo partiranno due pullman. All'andata finì 4-0 per i Verde Amaranto, ma quello era un altro Gela e c'era anche un altro allenatore. Da allora ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata e tanta. Domani sarà una festa di sport e che vinca il migliore. Così come è accaduto in occasione della partita casalinga con la Folgore, prima del fischio d'inizio il capitano di Biancazzurri consegnerà al suo omologo avversario e all'arbitro un presente promosso dalla Proloco in collaborazione con la società preseduta da Angelo Tuccio al fine di promuovere le bellezze della città.